Gli ultimi aggiornamenti dal PlayStation Blog includono grandi novità per tutti i giocatori PlayStation 4. Sony ha infatti svelato le nuove date di uscita di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima che ridisegnano solo in parte la finestra di mercato delle esclusive targate PS4. Prima di scoprire le nuove date di lancio vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale e attivare le notifiche così da rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità targate everyi.it. Un post sul PlayStation Blog ha finalmente sciolto il velo di mistero intorno alla data di uscita di The Last of Us 2. L'atteso titolo di Naughty Dog ora ha una nuova finestra di lancio che fa slittare di circa un mese l'uscita di Ghost of Tsushima. The Last of Us Part 2 verrà quindi ufficialmente lanciato in data 19 giugno come si legge direttamente dall'annuncio ufficiale. Rinviato di circa un mese invece l'arrivo di Ghost of Tsushima che vedrà la luce il 17 luglio 2020. La release originale del nuovo gioco di Sucker Punch era prevista per il 25 di giugno ma il team di sviluppo ha comunicato la nuova data probabilmente per adattarla a quella di The Last of Us 2 specificando in un tweet le difficoltà che il team di sviluppo sta incontrando nel lavorare in smart working. I fan di The Last of Us possono quindi dormire sonni tranquilli. L'appuntamento con la nuova avventura di Ellie e Joel è rimandata soltanto di poche settimane rispetto al lancio previsto per il 19 maggio rinviato poi da Sony. Fateci sapere ovviamente cosa ne pensate di queste nuove date nello spazio dedicato ai commenti.